Walzer di punte per la Salernitana. Dopo l'addio di coda passato al Benevento, e quello sempre più probabile di Donnarumma che dovrebbe alla fine passare all'Avellino in pole rispetto all'Empoli, anche per una preferenza geografica del calciatore che non vuole allontanarsi da casa, si inizia a guardare ai possibili sostituti. Fabiani è rispolverato un vecchio pallino, Riccardo Boccalon di proprietà dell'Alessandria con un contratto in scadenza nel 2018. L'attaccante è corteggiato da diversi club non solo di Lega Pro, ma anche di Serie B con Venezia, Provercelli e Cittadella, che però prima deve liberarsi di Gianluca Litteri ex Granata, che potrebbe diventare un obiettivo sensibile. Intanto in uscita dalla Salernitana si registra il forte pressing dell'Ascoli su della Rocca. Il centrocampista in scadenza nel 2018 aveva già lasciato intendere di voler lasciare Salerno, visto che la società di Via Allende sta facendo orecchio da mercante sulla richiesta da parte del suo procuratore di un rinnovo del contratto, ragion per cui si sono intensificati i contatti con il club marchigiano pronto a portare in bianco nero il centrocampista. Sul fronte portieri avevamo già ampiamente parlato dell'interesse della Salernitana per Mauro Vigorito. Il classe 90 in scadenza di contratto con il Vicenza tra qualche giorno sarà libero di accasarsi dove vuole e sembra che proprio Salerno possa essere la sua prossima destinazione. Difficile arrivare a Uicani, tornato a Genova dopo il prestito al Pisa e vicino all'Avellino, mentre Agazzi potrebbe finire in massima serie, così come Gomis che continua a piacere alla SPAL. Come secondo potrebbe arrivare dalla Lazio il giovane Marius Adamonis, prodotto della primavera bianco celeste.